Bella a tutti ragazzi, ben ritrovato in un nuovo video. Oggi ragazzi, nuova postazione come potete vedere, vedetemi cosa me ne pare, se vi piace o meno. Inoltre, ovviamente, like e iscrizione al canale, voglio fare un piccolo contest dove potete vincere l'abbonamento, la sub al canale, la piattaforma viola. Mi dovete dire, praticamente, chi indovina il primo che dice che opera è questa qui, come si chiama, vince la sub al canale, ok? Mi raccomando, vi aspetto sulla piattaforma viola in modo tale da regalarvi la sub. Comunque, oggi parleremo dei 5 centrocampisti più sottovalutati. È facile fare video su YouTube o comunque parlare dei giocatori più forti del gioco, è easy. Oggi, invece, parleremo dei giocatori, secondo me, più baggati e più sottovalutati, che non vengono tanto utilizzati, ma secondo me rendono davvero davvero bene. Andiamo a vedere in game, ve ne parlerò, quali sono i punti di forza, quali sono i punti deboli. Cercherò di farvi delle piccole reduce sui migliori giocatori. Chiamiamoli baggati, ma in realtà non è che sono baggati, ma sono semplicemente sottovalutati e sono molto molto buoni nella mediana. Iniziamo subito e cambiamo la scena del gameplay. Allora, ragazzi, 5 giocatori, ovviamente questa è la squadra tutta completa, ci sono le Icon, bla bla bla, stavo testando le squadre più forti del gioco. Iniziamo col parlare del primo giocatore. È una SBC che si faceva forse a inizio anno, non costava tantissimo e vi parlo di lui, ragazzi. Jonathan Dosantos, 4 piede debole, 4 stereoskill, rendimento alto alto, piede destro, 90 di velocità, 86 di tiro, 84 passaggio, 85 dribbling, 75 di difesa, 78 di fisico. Possono dare le sue statistiche, eccelle nell'accelerazione, 94, buona agilità 82. Considerate che questa era una SBC che è uscita tantissimo tempo fa, forse all'inizio del gioco più o meno. E ora siamo praticamente al pre-TOTS, settimana prossima ci sono i TOTS, li vedremo assieme sulla piattaforma viola come al solito. Guardate le sue statistiche, cioè l'unica pecca magari è quella difensiva per un mediano, 76 di intercettazioni che vi ricordo non è malissimo, cioè non vi aspettate che non intercetti proprio, eh. Però perché dico che questo qui è sottovalutato? Cerco di dare una spiegazione. Attualmente FIFA è un gioco, specialmente se utilizzate 5-3-2, 4-4-2, 4-1-2-2, dipende da quale modo lo utilizzate. È un gioco dove i CC, il CDC in generale, se non li selezioni non tornano dietro. Soprattutto è fondamentale la fase difensiva in cui devi rincorrere, cioè con gli esterni, con il mediano stesso per portarlo in direzione, in posizione giusta, scusatemi. Quindi è fondamentale per me, allora comunque in generale, per me è fondamentale avere un mediano che sia veloce. Veloce intendo uno che abbia meno di 85 di velocità, in modo tale da rincorrere e rimettersi subito nelle posizioni fondamentali della mediana. Un mediano, un CC, che ha 90 di velocità, per me è fenomenale, cioè è sicuramente tra i top. Tra l'altro questa è una sfida che costava 70.000 credit all'inizio del gioco, non costava veramente nulla, ed è veramente sottovalutata e la gente non l'ha calcolata più di altro. Ovviamente la cosa complicata di Los Santos, che è difficile da ibridare, è messicano, quindi gioca nel Los Angeles, quindi è molto complesso da ibridare. Però se si mettono due icon, non dico icon fenomenali, però attualmente in game, se avete fatto questa SVC, siete pre-tots, due iconcine cheap ci possono stare per metterlo con intesa. Eccele sicuramente nella velocità, buon passaggio, 90 corto, 83 lungo, 80 divisione, ha un ottimo tiro, potenza tiro 91, 91 di tiro a distanza, la pecca, vi ripeto, è nella fase difensiva e nei colpi di testa. Però secondo me, per quei 70.000 crediti che si pagavano all'epoca, straconviene come giocatore. Il secondo giocatore è uno che è appena uscito al football day, non lo vedo tantissimo in game, sinceramente l'ho testato, mi è piaciuto, però dipende da come lo si utilizza. Io vi ho sempre detto che un centrocampo a 3 me lo aspettavo molto più forte, però secondo me un centrocampo a 2 questo potrebbe rendere molto molto bene. Da affiancare uno molto difensivo, un po' più diga, uno più difensivo. Lui è un bel baggone perché comunque 90 di velocità anche lui, 80 di intercettazioni, agilità, ha un po' tutto. Tra l'altro ha 5 piedi debole quindi non ti sbaglia manco un passaggio, ha 88 passaggio lungo, 94 di passaggio corto. È una bella carta, molto molto interessante, sa fare tutto in entrambe le fasi. Non lo vedo in tantissime squadre, non so per quale motivo. Secondo me è molto molto sottovalutato perché non se ne parla tantissimo in game, sì, sicuramente alcuni ne parlano bene, però non è un giocatore di cui si sente tantissimo in streaming o comunque in generale. Terzo giocatore è un giocatore che ci regalava l'EA con gli obiettivi, anche lui molto sottovalutato. Ci sto facendo dei range di giocatori top e anche un quello un po' più sdreusi, chiamiamoli così, come Tello. Ha 88 di velocità, 80 di intercettazione, 91 è alto, 1,81 per un mediano è buono, cioè non è che è altissimo però è 1,81, ci sta come altezza per un mediano. Sicuramente in game non rende come le statistiche, sia chiaro, però è molto molto buono, cioè è sottovalutato anche lui. E anche esso non è un giocatore fenomenale, ma sicuramente per essere un giocatore regalato ne vale sicuramente la pena. 88 di velocità per un mediano è tanta roba ragazzi, 80 di intercettazione, ci sta. Gli ultimi due sono due che giocano nella liga, Valverde, Valverde è fenomenale, l'IF, la versione IF, questo fenomenale ragazzi, alto alto, trepide debole, però nella fase di copertura secondo me è molto molto buono, perché rincorre bene, recupera i palloni, intercettazione 83 non è male, contrasto di impiede 82, ottimo giocatore, non costa tantissimo attualmente sul mercato, quindi se non siete diciamo ricchi in game potete prenderlo tranquillamente un giocatore come Valverde. Eccelle, vi ripeto, nella velocità, nel passaggio così così, se lo fa col piede debole non è proprio il massimo, però vi ripeto, la cosa fondamentale è quella fase di rincorrere. Prendere il mediano, tornare dietro e in posizione è fondamentale, perché quest'anno il compito non te la fa in automatico questa cosa difensiva. Ed infine un giocatore che è AD, però viene messo in mediana. Marcos Llorente, secondo me, è proprio l'esempio del giocatore più sottovalutato in game ragazzi. Questo è fortissimo, anche prima dei tots, fortissimo, ha delle leve, ha delle gambe clamorose, intercetta un bordello, questo secondo me tra i 5 è quello più consigliato. Marcos Llorente, allucinante, è veloce, nei passaggi è buono, l'agilità ce l'ha, non sembra così mattone sinceramente. 90 di passaggio corto, 88 passaggio lungo, 87 di intercettazione, questo sicuramente è il giocatore più sottovalutato nella mediana quest'anno secondo me. Perché comunque, ok che è AD, però questo se lo metti CC ragazzi, è veramente, veramente forte. Ditemi voi chi sono i 5 più buggati, vi faccio vedere, questa è una squadra sbloccata praticamente che stavo testando la mia ipotesi di squadra più forte del gioco. Comunque, queste 5 sono Dosanto, Saguaro, Tello, Valverde e Marcos Llorente. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate e chi sono secondo voi i migliori giocatori, anzi i giocatori più sottovalutati centrocampisti. Nel prossimo video faremo gli attaccanti più sottovalutati in game. Vi saluto ragazzi, un bacione, ci vediamo più tardi con le qualifiche dell'area nazionale. Un bacione e ciao ciao!